Tifoso dell'Inter, per forza, sempre! Allora, qui hai il mio socio che è il tifoso dell'Inter. Io gli mando da Roma, da Mac Store, sempre queste t-shirt. Grazie a tutti, complimenti per il progetto. Complimenti per l'Inter, che stanno andando bellissimo. Ma è un progetto che è un progetto che si può essere usato, quindi a favore dei bambini. È un grande gesto. E' un'esperienza per noi, che in giro per il mondo, trovare i bambini, 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 i bambini. L'uomo si sentono a far parte dell'uomo, che li rende anche il territorio più importante nelle loro famiglie, nei loro avanti, che gli dà maggior dignità. Questo è già un bel successo per loro. Poi in più c'è il fatto che il gioco è uno sport meraviglioso. Il più bello che comunque ha comune a tutti i popoli del mondo. Si, è una lingua comune per tutti. Il calcio, certo. Vediamo appunto anch'io un'esperienza. Venendo qui a Miami, non pensare di fare tante persone che conoscessano l'Inter. No, ma tante le amo. No, noi abbiamo saputo che c'è un club qui, e da anni poi conosceremo il suo invadore. Quindi noi gli auguriamo un grande in bocca al lugo. L'Inter sta andando bellissimo. E lei, tu scusami, tu confessare solo per questo momento, chiaramente è un gran signore. Sono un tifoso da Roma, però ti ammiro tantissimo. Speramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.